Musica Ciampi, pizza e ballottaggio d'Avellino, unico comune capoluogo campano al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Affluenza in media al 67% in calo rispetto alle ultime amministrative, 15 comuni della provincia di Benevento hanno rinnovato l'assise comunale. Alife, Sant'Angelo, Cagliazzo, le prime emozioni dei neo eletti sindaci, Caporaso, Di Tommaso e Giacquinto. Il presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti e Assessorunca per l'inaugurazione della Chiesa dell'Annunziata. Concerto finale Festa della Repubblica, ospitato nel Teatro Comunale di Castelvenere, sotto i riflettori il Centro di Educazione Musicale Permanente, il concerto bandistico Le Maciorette e Cantanti Lirici, direzione a cura del maestro Pasquale Aiezza. Nuova edizione del Medianews, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Il prossimo 24 giugno si andrà al ballottaggio nello Pizza Vincenzo Ciampi, uno dei due sarà il prossimo sindaco di Avellino, unico capoluogo campano al voto. No agli apparentamenti al secondo turno è l'unica sintonia tra i due candidati alla carica di sindaco di Avellino, nello Pizza Centro-Sinistra e Vincenzo Ciampi, Movimento 5 Stelle, che si sfideranno nel ballottaggio del 24 giugno prossimo. Pizza, primo degli otto aspiranti sindaco con il 42,9% dei voti, a conclusione dello scrutinio nelle 72 sezioni cittadine, ha escluso ogni alleanza con le liste e le forze politiche sconfitte. Della stessa idea Vincenzo Ciampi, 20% dei voti, che rivendica come linea di riconoscibilità e credibilità del Movimento, quella peraltro sancita nello statuto non statuto, di presentarsi soltanto con la propria lista al giudizio degli elettori. In queste ore c'è però stato un approccio nei confronti del Movimento 5 Stelle da parte di Luca Cipriano, ex PD, candidato sindaco per la civica, mai più. Cipriano, terzo classificato, con il 13,1%, ha offerto la sua disponibilità a concorrere al governo del cambiamento, ma sul turno di ballottaggio pesa l'ipoteca della maggioranza consigliare, uscita domenica dalle urne. Secondo le proiezioni, le liste che sostengono Pizza avrebbero già fatto scattare 16 seggi su 32, che in caso di vittoria del candidato del centro-sinistra potrebbero anche e ancora aumentare di alcune unità. Nel caso di vittoria di Ciampi, gli equilibri consigliari non cambierebbero. Al Movimento 5 Stelle andrebbero comunque 5 seggi e l'eventuale sindaco, pentastellato, non potrebbe contare su una maggioranza in consiglio comunale, richiamando così la metafora politica dell'anatra zoppa. Su altri fronti cominciano ad aprirsi le riflessioni sul voto, molto impegnative quelle che si annunciano nella coalizione di centro-destra, che con Sabino Morano si è fermata al 10,4%, risultando così esclusa dal ballottaggio come nel 2013. 15 comuni della provincia di Benevento hanno rinnovato il Consiglio Comunale e seggi chiusi alle 23, affluenza in calo rispetto alle ultime elezioni amministrative. Sentiamo. 15 comuni della provincia di Benevento che hanno rinnovato i consigli comunali, tanti i sindaci che continueranno ad indossare la fascia tricolore. Riconferma a Puglianello per l'uscente Tonino Bartone, che ha corso da solo e battuto il quorum. Non lascerà la poltrona nemmeno il sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, che ha superato le 2000 preferenze, lasciando allo sfidante un piccolo gruzzoletto di voti. Prebiscito e riconferma per Nascenzo Iannace a San Leucio del Sagno. Nessun cambio di scena a San Lupo con Franco Mucci, ancora sindaco. Sorpresa invece a San Lorenzo Maggiore, dove vince Carlo Iannotti. A Frasso conquista il primo scranno della città, Pasquale Viscusi. 94% dei consensi per Gianfranco Rinaldi a Ponte Landolfo. Terzo mandato a Bucciano per Domenico Matera. Piano di voti a Cepaloni per Ettore De Blasio. Nessuna novità a Castelpagano, dove Bozzuto si riconferma a pieni voti. A Darpaise, passaggio di testimone da Filomena Laudato a Vincenzo Fornirossi. A Morcone, eletto Luigi Ciarlo. A Ponte, Marco Fusco e il nuovo sindaco, rieletto a Montesarchio, Franco Damiano. Si è votato anche in numerosi comuni della Terra di Lavoro, a Life, Sant'Angelo, da Life, Caiazzo, le prime emozioni dei neoletti sindaci Caporaso di Tommaso e Giacquinto. Sentiamoli. Iniziamo a capire come funziona la macchina amministrativa proprio dal vivo, anche se sono convinta che nella nostra squadra ci siano delle professionalità, delle competenze e anche dei bagagli culturali che ci permetteranno di avviare e portare fino in fondo quelli che sono i nostri progetti, i nostri programmi. È abbastanza emozionato, è stata una vittoria fortissima. Grazie agli elettori che mi hanno onorato, sarò il sindaco di tutti, soprattutto per le persone che non mi hanno sostenuto e per gli amici invece che mi hanno sostenuto. La voglia di far bene mi porterà sicuramente ad essere equilibrato in tutto. Sono stato appena proclamato sindaco per la terza volta. Un ringraziamento a tutti i cittadini di Caiazzo che hanno creduto nel progetto di Uniti per Caiazzo. Credo che questa sia una soddisfazione un po' per tutti noi, aver vinto questa elezione, un po' contro tutto e contro tutti. Abbiamo dato sicuramente fiducia ai cittadini e ai lettori e noi ripagheremo con la stessa forza, con la stessa entusiasmo, soprattutto con la stessa passione di sempre. Riprendiamo il cammino, riprendiamo il progetto di Uniti per Caiazzo che era stato interrotto. Adesso abbiamo solo tanta voglia di lavorare per il bene dei cittadini e soprattutto per dare una concretezza a ciò che abbiamo detto in questi giorni di campagna elettorale. Sarà la Spagna ad accogliere l'Aquarius con a bordo 629 migranti. Su Facebook il ministro dell'Interno Salvini esprime soddisfazione e parla di vittoria. Primo obiettivo raggiunto scrive evidentemente alzare la voce e paga. Un caso che sta facendo molto discutere e dividere l'opinione pubblica. Sentiamo cosa ne pensa il vescovo di Policastro Teggiano, Monsignor De Luca. Al caso Aquarius si è aggiunto quello di una seconda nave carica di migranti, la Sea-Watch 3, a largo delle coste libiche. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha mantenuto la sua posizione con la chiusura dei porti italiani all'approdo delle due navi. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire. Stavolta c'è chi dice no, ha scritto su Twitter il ministro. Con lui è anche il collega delle infrastrutture, il 5 Stelle Danilo Toninelli che è responsabile della Guardia Costiera. È necessario stavolta che tutti comprendano che il diritto internazionale non può prevedere un'Italia abbandonata a se stessa. Noi salveremo sempre le vite umane, ma Malta è la spia di un'Europa che deve cambiare, ha detto Toninelli. Tutto questo mentre a livello politico si è innescata una dura polemica così come sui social dove i cittadini si stanno fronteggiando sulle due posizioni. Noi abbiamo chiesto un parere a Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Delegato Migrantes della Conferenza Episcopale Campana. Innanzitutto credo che di fronte a questi fenomeni, di fronte a queste vicende c'è da rimanere perplessi e preoccupati in quanto si smantella in pochi attimi e con poche emozioni un patrimonio di cultura, di umanesimo che ha contraddistinto la nostra terra e l'Italia. E inoltre l'Italia è uno Stato di diritto per cui il diritto alla salute, il diritto alla salvezza, alla salvaguardia della vita degli altri è qualche cosa sulla quale siamo per intervenire. Noi ci dobbiamo preoccupare effettivamente che l'Italia non resti sola, che i paesi dell'Unione Europea si sentano coinvolti, ma le diattive istituzionali non possono rigadere sulla pelle dei più poveri e degli ultimi, di coloro che scappano da situazioni di guerra, di povertà e di ingiustizia. Noi ci dobbiamo preoccupare della centralità della persona, dell'equa distribuzione delle risorse e che il diritto alla vita e alla dignità sia garantito per tutti. In questo dibattito è chiaro che rivendichiamo l'attenzione dell'Europa, rivendichiamo che altri paesi si rendano disponibili, chiediamo anche la revisione dei trattati del Trattato di Dublino, ma tutte queste richieste non possono minimamente scalpire quel dovere fondamentale che è la salvaguardia della vita e della sicurezza della persona umana. L'incidente mortale annuncerà inferiore, poche ore ripartirà il processo. Sentiamo. Domani inizierà il processo d'appello che vede alla sbarra Biaggio Annunziata un uomo di 32 anni di San Marzano sul Sarno che la notte tra l'11 e il 12 novembre del 2016 travolse con la sua auto 5 persone. Un uomo di 74 anni, Giuseppe De Prisco, persa la vita mentre rimase gravemente ferito il figlio Giovanni che a causa delle gravissime ferite riportate oggi vive su una sedia a rotelle. Anche un carabiniere, Giuseppe Aliperti, per i danni subiti dall'impatto è stato riformato dall'arma. Queste due persone si costituiranno parte civile. Al termine del processo di primo grado, Annunziata fu condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere. La procura ne aveva chiesti 15 e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Annunziata quella sera stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro in un noto bar di nocera inferiore. Viaggiava a bordo di una lancia Ypsilon. Le condizioni del manto stradale non erano delle migliori. Aveva piovuto per diverse ore e la strada era ancora bagnata. Intorno alle 2 di notte il 31enne viaggiava ad alta velocità lungo via Napoli. In stato di alterazione e non riuscendo a frenare in tempo, travolse le 5 persone, tra cui due carabinieri, che erano ferme nei pressi di un marciapiede per un precedente incidente avvenuto poco prima. Un'ora prima, infatti, due giovani avevano urtato una macchina in sosta e non sapendo a che fare, avevano allertato i carabinieri per risalire al proprietario. Era Giuseppe De Prisco, il pensionato che scese in strada dopo il trammusto insieme a moglie e figlio. I due militari che intervennero poco dopo avviarono la stesura del verbale dell'incidente quando, ad un tratto, furono travolti dall'auto di Annunziata. Ad avere la peggio fu proprio l'anziano, un fabbro di 74 anni, deceduto sul colpo. Le due ambulanze giunte sul posto soccorsero anche il figlio Giovanni, da allora paralizzato, su una sedia a rotelle, la madre, che se la cavò con ferite leggere, e due carabinieri. Anche Annunziata fu trasferito in ospedale, in stato d'arresto per le cure del caso. Sul letto d'ospedale spiegò al giudice, durante l'interrogatorio di garanzia, di aver bevuto prima di salire in auto e rientrare a casa, e di non aver ricordato più nulla, né di aver visto la paletta segnaletica di uno dei militari che segnalava un accertamento in corso su un sinistro stradale. Le indagini del sostituto procuratore Roberto Lenza accertarono che il suo tasso alcolemico era superiore rispetto ai limiti consentiti. Il presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, ha Sessaurunca per l'inaugurazione della Chiesa dell'Annunziata. Vediamo. Il restauro è durato tre anni, è stata riaperta al culto la Chiesa dell'Annunziata di Sessaurunca, l'inaugurazione del restaurato, sito storico, alla presenza del Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ho avuto l'impressione di una Chiesa viva, cioè che praticamente affronta le situazioni reali e concrete della gente. Una Chiesa che si china su ogni persona, una Chiesa capace di dialogo. E naturalmente questi sono tutti gli elementi indispensabili oggi per poter dare soluzione anche ai problemi. La celebrazione eucaristica è stata concelebrata da Monsignor Oraccio Francesco Piazza, Vescovo di Sessaurunca e Don Roberto Gutturiello, parroco dell'Annunziata e direttore dell'Ufficio Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici. Sta per nascere un polo di socialità molto forte nel cuore di Sessaurunca perché attraverso la riapertura della Chiesa ma soprattutto la ristrutturazione del Palazzo Ecca che viene dal Comune consegnato alla Diocesi attraverso la normale procedura prevista consente veramente di costituire il nuovo elemento pulsante che mancava per coprire tutto il territorio della nostra Diocesi. Le fasi di restauro sono state due la fase interna e la fase esterna. Tre anni fa abbiamo attivato innanzitutto quella esterna con il recupero della facciata, delle tettuglie e del muro perimetrale. Successivamente si è passato poi agli interni con il recupero del pavimento, il recupero degli intonaci interni, il recupero degli ambienti della sacristia, degli uffici pastorali e poi la grande novità è che nel frattempo che si recuperava è emersa anche una preesistenza di fatto è una chiesa di fine Quattrocento di cui si aveva attestazione storica perché avevamo un documento dell'ingegnere Astarita che chiedeva alla Reale Casa di Napoli la possibilità di poter ristrutturare l'annunziata distrutta dalle fondamenta. Quindi noi sapevamo che c'erano lacerti del precedente edificio di culto e quindi è stato trovato. Poi altri interventi sono stati sugli impianti novità assolute che anche nell'impiantistica si è usato, almeno si è puntato al risparmio energetico difatti è la prima chiesa in diocesi ad avere la domotica che comporterà almeno il 70-80% del risparmio energetico con tutto l'impianto a LED e quant'altro. Cosa l'ho reso possibile? Grazie ai finanziamenti dell'Otto per Mille che hanno contribuito in maniera procuota al restauro complessivo che si è girato intorno a 1.800.000 euro. Un restauro realizzato grazie ai fondi dell'Otto per Mille destinati alla Chiesa Cattolica restituito alla comunità un luogo di culto che risale al 500 e che è uno dei più importanti della diocesi campana. Orgoglioso di investire in risorse ma non soltanto risorse economiche ma in risorse di conoscenza e risorse appunto di confronto delle nuove generazioni facendo capire loro l'importanza della salvaguardia e della tutela del patrimonio. La città di Sassarungo è un momento molto molto importante perché viene restituita in tutta la sua bellezza una delle sue opere d'arti e uno dei suoi centri di aggregazione culturali più importanti quindi grazie a Monsignor Piazza grazie a Don Roberto Culturiello un lavoro ben condotto con tanta scrupolosità. A Guardia San Framondi si continua a parlare di riti settennali domenica 10 giugno in Municipio un incontro sulla fotografia e sulla comunicazione. Il servizio. L'evento penitenziale divenuto ormai di rilevanza nazionale ed internazionale è stato negli anni oggetto di studi antropologici di reportage fotografici e documentari filmati ecco perché a Guardia San Framondi si susseguono studi e riflessioni sulla fotografia e sulla comunicazione nei riti settennali. Questo convegno è nato perché subito dopo i riti settennali abbiamo visto tramite web un fotografo che fotografava i fotografi allora ci siamo posti il problema con Floriano perché non li invitiamo a Guardia tutti quanti per un convegno e far capire da loro qual è il movente qual è lo scopo per cui loro sono venuti a Guardia. Spunti di riflessione e tematiche di questo tipo ci saranno anche nei prossimi anni anche perché qui a Guardia a breve a Palazzo Pigna sarà aperto un centro di documentazione e museo sui riti settennali dedicato proprio alla ricerca allo studio e ai riti settennali dell'assunta. Le foto mie sono più che raccontare i riti settennali interpretano i riti settennali quindi si parla più di anima più di interiore quindi le persone che hanno visto proprio la mostra il video poi soprattutto i battenti. Perché oggi ovviamente fotografare i riti tutti fotografano i riti con le tecniche moderne quindi in digitale io iniziai a fotografare i riti questi del 2017 sono stati i settimi riti settennali che io ho fotografato quindi fotografo da un bel po'. Io da molti anni mi chiedo se nel contesto in cui vivo a Trento mi chiedessero di spiegare in una conferenza di un'ora come si può parlare dei riti che cosa sono i riti bene io ho riflettito a lungo e mi sono reso conto che non è facile per niente. In questo senso il marketing territoriale può essere inteso come processo di costruzione di un valore che non è assolutamente un valore solo economico per il territorio ma anche un valore che si esprime nella coesione sociale e in una serie di aspetti che riguardano appunto la comunità nel suo complesso. Tramandare attraverso la fotografia i posti è una cosa molto bella però bisogna stare attenti perché si potrebbe correre il rischio di essere soltanto una fotografia che può dare luogo a giudizio o a pregiudizi invece la fotografia la dobbiamo guardare perché ci ricordi quello che è stato quello che i nostri antenati hanno fatto quello che noi abbiamo fatto che possa servire anche di utilità per la fede degli altri di quelli che vengono dopo di noi questa è una cosa molto importante a cui ci tengo molto e intendo molto sottolinearlo. Nel momento in cui ci si muove e si approfondiscono i temi dal punto di vista tecnico antropologico, culturale credo che sia sicuramente qualcosa di positivo questa sera è uno dei passaggi per costruire il nostro centro di documentazione cittadina sostanzialmente si sta ricostruendo tutta la storia di questa comunità con riferimento in modo particolare ai riti setternali ritenendo che soltanto una conoscenza storica veramente puntuale si possano poi programmare iniziative importanti per il futuro Nel corso della serata anche un omaggio a Caruso sabato 9 giugno a Castelvenere concerto finale Festa della Repubblica sotto i riflettori il centro di educazione musicale permanente il concerto bandistico le majorette cantanti lirici e la corale Santa Cecilia diretta dalla maestra Chiara Marrone direzione a cura del maestro direttore concertatore Pasquale Aiezza a voi una piccola anticipazione la vita è nel tribudio quando non sa mia ancora non dite a chi l'ignora che la tempi nella benedioni e la fatta viene bianca di una lacking non c'è GIACHA di un'ore La paralezza dei sottotitoli Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chiudiamo con due notizie di sport Simone Verdi è a Roma per essere sottoposto alle visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni Lo ricordiamo, arriva a Napoli in cambio di 25 milioni al Bologna e percepirà un ingaggio di circa 1,7 milioni a stagione Dopo la firma del contratto il giocatore andrà in vacanza per poi unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra per il raduno del 9 luglio a Castelvolturno L'Udinese per il proprio pacchetto avanzato guarda in casa del Benevento piace infatti Enrico Brignola 19 anni, 18 presenze e 3 gol nella scorsa stagione con il club Sannita ma i bianconeri non sono gli unici ad averci messo gli occhi la società friulana dovrà guardarsi dalla concorrenza del Sassuolo che sta per ufficializzare De Zerbi in panchina è stato proprio De Zerbi a valorizzare Brignola nella sua avventura sulla panchina dei giallorossi in Serie A nei prossimi giorni è previsto un nuovo check tra le società per capire se si può chiudere l'affare ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo grazie dell'attenzione arrivederci grazie a tutti ben ritrovati un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it previsioni per martedì 12 giugno sarà instabile sui settori alpini ma localmente fin verso le pianure prevale il bel tempo invece sul resto del territorio nazionale analizziamo la situazione nel dettaglio al nord al mattino qualche temporale sarà possibile solamente sulle Alpi Occidentali in estensione col passare delle ore un po' tutto l'arco alpino in genere e localmente fin verso le pianure limitrofe ampio soleggiamento invece altrove al centro sarà una splendida giornata all'insegna del sole il cielo si presenterà sereno sulla Sardegna al massimo poco nuvoloso sui restanti settori le regioni meridionali saranno altrettanto fortunate con un ampio soleggiamento ovunque e con il cielo che sarà sereno un po' su tutti i settori i venti saranno deboli da direzioni variabili su tutti i bacini concludiamo infine con le temperature che risulteranno essere in lieve ma generale calo le minime infatti saranno comprese tra 14 e 21 gradi su tutto il nostro paese per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 30 gradi al nord fino a 31 gradi al centro ma punte di 36 gradi al sud